Buonasera a tutti, cerchiamo di farla breve perché siete qua per un grande spettacolo e il vostro atto di generosità l'avete già fatto, regalando il costo di questo biglietto alla nostra Ombus che segue circa 200 ragazzi autistici a Roma e nel Nazio e che grazie alla vostra solidarietà nei prossimi 12 mesi dovranno svolgere attività che gli aiutano a essere più autonomi, che cercano di costruire per loro un futuro di cittadini di serie A in questa società. Gli autistici non sono dei malati, l'autismo è una condizione, si nasce autistici e si vive autistici e da autistici si possono fare moltissime cose, si può soprattutto lavorare, essere soggetti attivi della società. Molti autistici hanno delle abilità incredibili, riescono a fare meglio di noi i cosiddetti normali alcune cose e queste cose possono essere utili a tutti noi. Quindi noi vi ringraziamo di cuore veramente a nome nostro e soprattutto a nome dei nostri ragazzi per essere qui stasera e per aiutarci nel nostro lavoro. Ovviamente vi invitiamo già adesso per il prossimo anno che speriamo Claudio ci rinnovi questo meraviglioso evento che noi abbiamo chiamato in live per l'autismo. Grazie e speriamo di una scuola che è la più bella del senato. Buonasera a tutti, ci siamo portati un amico. Ci stiamo a tutti, ci siamo portati un amico. Ci siamo portati un amico. Ci siamo portati un amico. Nagri kettis per il 2011. Grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutti e a tutti. Grazie a tutti. Un abbraccio a tutti per aiuto, i ragazzi speciali, grazie, buon divento, merito. Grazie. Noi siamo diventati amici perché la politica a volte crea questo, l'incontro con dei genitori, un'associazione che non conoscevo e che nel tempo è diventato un rapporto consolidato, un rapporto di stima reciproca, di amicizia e soprattutto di aiuto. Sono qui come voi per sostenere l'associazione di Vento Grande, a voi va il mio principale ringraziamento, tanti di voi non hanno l'autismo dentro casa, non comprendono la fatica quotidiana di tante famiglie e la vostra sensibilità è forse il ringraziamento più grande, la vicinanza più grande che si può dare a promiglie con qualche problema in più che oggi si sentono sicuramente più parte di una comunità e meno escluse dalla società. Questa è una serata di divertimento, noi abbiamo tanti artisti che ringraziamo che si mettono a disposizione di una causa che va oltre il mondo del bando ed è questa la comunità che noi tutti auspichiamo, ognuno con la propria caratteristica, ognuno con la propria specialità per un obiettivo comune. Oggi è l'autismo e naturalmente ci auguriamo sempre un'attenzione particolare per chi ha qualche differenza rispetto a noi. Grazie.